Buongiorno a tutti, Eroica Schialp della Varendina edizione 2020, edizione particolare quest'anno ovviamente perché è ridimensionata e adattata ai decreti provinciali e ministeriali che sono subiti in questi giorni, ma comunque l'evento c'è, l'evento si è voluto fare, limitandola in certi punti ma si è voluto fare, come vediamo siamo a Paladromi a Pezzolo per il ritiro dei vettorali e dei bacchi gara, c'è una certa ordine, una certa disciplina, si mantengono le normative per quanto riguarda la sicurezza, si mantengono quelle per quanto riguarda le distanze, ma i nostri concorrenti hanno voluto esserci, soprattutto i partecipanti, quelli che hanno interpretato come sempre a pieno lo spirito dell'Eroica Schialp e sono arrivati abbigliati in maniera eroica, in maniera storica, in maniera tradizionale. Seguiremo la gara per tutta quanta la giornata, nel suo svolgio ci sarà la partenza del 9.15 prevista per Rodonze e lungo il percorso, arrivo con musica al Dost e il Sabione, quindi ci sarà ancora modo per noi di fermarsi, di ammirare, di fare due chiacchiere a distanza con i protagonisti veri di questa giornata che sono gli Schialper e che parteciperà all'Eroica Schialpa. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi domenica 8 marzo alla partenza dell'Eroica Schialpa Varrendena, trofeo Massimo Anella, una manifestazione organizzata dall'Alpingo Varrendena, giunta alla 21esima edizione. È stata mantenuta rispettando i decreti per questa emergenza sanitaria, quindi la manifestazione è stata ridimensionata e comunque viene effettuata qui da Prarodonto al Dordio del Sabione. Verranno rispettate in primis la sicurezza di tutti per questa emergenza sanitaria. Un in bocca al lupo a tutti, ci saranno molti concorrenti vestiti con abiti e abbigliamento e attrezzatura d'epoca, la giornata è magnifica, c'è un sole stupendo, una grandissima nevicata nei giorni scorsi, il panorama e il percorso di gara sono fantastici, col passaggio alla malga Brenda Lors, alla località maltonina, con lo sfondo Le Dolomiti di Brenta, quindi si passerà sullo spigolo di Gruale e si arriverà al Dordio del Sabione. Un in bocca al lupo a tutti e una buona continuazione. Un in bocca al lupo a tutti e una buona continuazione. in Republicania Ciao! No, no! No, no! I'm better, people! No, barely! It doesn't go, Piero! It's very fast! It's right! ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti 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 Ciao 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 E' andata benissimo, le pelli attaccavano, era il mio unico pensiero, perché sugli sci di legno non è facile che attacchino le pelli. Anche perché le pelli hanno più di 50 anni. Più di 50 anni anche le pelli, quindi veramente d'epoca. Un applauso triplo per Ilaria. Brava, brava. Grazie a tutti. Bravissimi. Bravo, bravi. Bravi, bravi. Un pochino applauso per il nostro amborto. Che sono America, per un mucchio luchissimo di motivi, grazie. E' un'altra, forza. Dai, Barbie! Vai Nella, dai! Brava, brava, brava! Grazie! 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 Bravissima! Bravissima, Bella! Grazie! Ma Giulietti, dietro! Vai dietro! Vai dietro! Eh, l'ho beccato... Eh, l'ho beccato... Eh, l'ho beccato... Il un pochino, mercato è super. È un pochino... È un pochino... E un pochino... Un pochino... Arrivi! Vai, Michi, torniamo! Vecchi primi, vecchi primi, vecchi primi, vecchi primi. Grazie. 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 Va bene? Andiamo a casa. A me, a me, a me. Allora, andiamo a casa. A me, a me. Venga. We're in the middle. Come in the middle. We're in the middle. We're in the middle of the mountain. We're in the middle. We're in the middle. un pochino a ristare la madonna, la musica questa è la madonna e qui su anche per accarciare all'intervento c'è un'angolo Grazie. 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 Ciao. Ciao. Grazie. 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 Noi no. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie.